Pescara-Pontedera 1-1 l'arbitro donna, Maria Marotta della sezione di Sapri, fuori Sorrentino e Blanuta sono nazionali under 20, poi Drudi e Chiarella a causa infortunio, ingrosso per la squalifica, le due novità, Iacobucci tre pali debutto all'Adriatico e poi Gerardi nel cuore della difesa. Al fianco di Gianes, Pontedera senza Milani ed Especia è 3-5-1-1, Serena, una posizione atipica, posizione un po' più alta, quasi da trequartista alle spalle di Magnaghi, siamo nei minuti di serie della partita, la rispinta sbagliata di Gerardi, il gran destro di Regoli, la grande parata di Iacobucci e poi la traversa sul cross di Catanese, colpita, timbrata da Serena. Si salva subito il Pescara, avvio da brividi per la formazione di Gaetano Oteri, grande parata quindi, Iacobucci è stato davvero strepitoso, poi cross, ripetiamo, di Catanese, colpo di testa di Serena e la traversa che salva la porta a Biancazzurra sugli sviluppi del calcio d'angolo, Caponi, il capitano del Pontedera, tra i migliori del primo tempo, crea qualche apprezzione a Iacobucci che però è stato bravissimo. Qui, su calcio d'angolo, la risorsa delle palle inattive importante per il Pescara, batte Pompetti, il colpo di testa, gira Dursi, la palla termina di un soffio a lato, ancora un calcio d'angolo, Pontisso, il colpo di testa di Ferrari, probabilmente qui Melgrati riesce a respingere dopo che il pallone varca la linea di porta, però insomma l'arbitro donna, Maria Marotta di Sapri, non viene aiutato al secondo assistente, Pelosi di Ercolano, solo lui avrebbe potuto vedere, però la sensazione è stata netta che il pallone abbia appunto varcato la linea di porta. Qui Pontisso colpisce il palo, la respinta e poi il destro di Gerardi con una grande risposta ancora una volta dall'estremo difensore del Pontedera, Melgrati, classe 94, prima parte di questa stagione nell'Ibolese. Poi ventottesimo minuto, si distende la formazione toscana, vediamo con questo passaggio di barba per Magnaghi da posizione decentrata, sempre vigile, attento, l'estremo difensore del Pescara, Alessandro Iacobucci al debutto all'Adriatico, la seconda partita titolare dopo l'esordio nella trasferta di ancora nello scorso 22 dicembre, questa è una grande azione del Pescara, da Pontisso a Clemenza, quindi Ferrari lo scarico per Pompetti, il sinistro, bravissimo. L'estremo difensore della Pontedera, Melgrati, quindi Derisio, 59esimo, attenzione a questa azione del gol, c'è questo filtrante di Pompetti, il contrasto tra Schiba e Ferrari, palla vagante, il gioiello di Clemenza, sesto gol in questo campionato, sinistro a giro, che scavalca il portiere Melgrati, sesta rete in campionato, ripetiamo per Luca Clemenza, classe 97, che non aveva fatto un grandissimo primo tempo, eufemisticamente, stava per essere probabilmente anche sostituito, e questo è un grandissimo gol, guardate il contrasto tra Schiba e Ferrari, Schiba tocca il pallone, si trova lì, nei pressi Clemenza, che non ci pensa su due volte, sinistro è davvero da sottolineare, sinistro a giro, grande qualità, ci sono delle sostituzioni, Mouton, che sarà decisivo per il Ponte Nera, prende il posto di Magnaghi, però entreranno anche Benericetti, Benedetti, insomma, diciamo che dà più sostanza all'attacco il tecnico Maraia, qui ha ancora regoli, grande parata di Sorrentino, si lamentano i difensori, o meglio, i giocatori della scuola di Maraia, perché probabilmente, non lo sappiamo con certezza, Izanes colpisce il pallone con il braccio, pallone che poi va a toccare il legno della porta di Iacobucci, ci sono le proteste della squadra di Ivan Maraia, ma si salva, si salva e non poco, la formazione biancazzura prende campo, il Ponte Nera, il Pescara si abbassa, gestione del pallone a dir poco sciagurata, e infatti qui si perde palla, ma già c'erano stati degli errori in precedenza, calcio di punizione, lo batte Catanese, guardate, 87esimo minuto, la sponda di Bakayoko e poi il controllo con il petto, la girata fantastica di Mouton al quinto gol in questa stagione, classe 99, aveva preso il posto di Simone Magnaghi, il cannoniere della squadra toscana con 15 reti, ma a digiuno, ormai da sette partite, compresa quella di oggi, 87esimo, doccia gelata per i biancazzurri, per la squadra di Gaetano Auteri, un autentico suicidio perché la partita sembrava in mano, ma il Ponte Nera ci ha creduto e ha meritato questo pareggio, finisce qui, triplice fischio dopo quattro minuti di recupero del direttore di gara, l'arbitro donna Maria Marotta della sezione di Sapri, Pescara 1, Ponte Nera 1, delusione biancazzurra. Grazie.